Buonasera a tutti. In attesa dell'emanazione del nuovo DPCM, che detterà le regole di condotta per tutto il periodo natalizio, continuano ad applicarsi le previsioni dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese quelle in materia di attività didattiche. Come sappiamo, in base al grado di emergenza sanitaria, le regioni sono state divise in tre colori, rosso, arancione e giallo. Nel caso specifico, la Regione Piemonte era stata individuata come Regione Rossa fino al 27 di novembre, con la conseguenza che in quel periodo si applicavano le previsioni sulla didattica, secondo le quali la didattica si svolgeva in presenza per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado limitatamente alla prima classe e a distanza dalla seconda e terza classe della primaria di primo grado e per tutta la scuola secondaria. Se non che il 27 di novembre la Regione Piemonte è stata portata da Rossa a Arancione, con la conseguenza che avrebbe dovuto applicarsi la didattica in presenza anche alle classi seconda e terza della primaria di primo grado. Tuttavia il Presidente Cirio, con un decreto del 28 novembre, ha disposto la prosecuzione dell'attività didattica a distanza anche per la seconda e terza classe della scuola primaria di primo grado. Un gruppo di genitori e di alunni proprio di queste classi seconda e terza della secondaria di primo grado ha impugnato innanzi al Tar Piemonte il decreto del Presidente Cirio, ritenendoli illegittimo per violazione della normativa nazionale che appunto consentiva lo svolgimento della didattica in presenza anche per questa tipologia di classi. Ebbene, con una sentenza depositata lo scorso 12 dicembre, il Tar Piemonte ha deciso il ricorso dando però ragione alla linea del Presidente della Regione Piemonte. In particolare, secondo i giudici amministrativi piemontesi, la Regione Piemonte si è mossa nell'ambito di una competenza riconosciuta direttamente dalla legge, in particolare da uno dei decreti legge emanati in periodo emergenziale che consente appunto alle Regioni di emanare anche norme e regole più restrittive in base all'andamento della situazione epidemiologica. E in ogni caso la Regione Piemonte, secondo il Tar, avrebbe agito tramite l'adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti che possono essere emanati in materia di igiene e sanità pubblica dalle giunte regionali. Peraltro, secondo i giudici piemontesi, la Regione avrebbe agito in virtù del principio di precauzione che appunto consente l'adozione di misure preventive sempre a tutela della salute. Arrivederci. Grazie a tutti.